oggi faremo degli spaghettini al pomodoro facili facili anche perché in questo caso non devo fare la salsa di pomodoro che è già fatta come prima cosa prendiamo la salsa di pomodoro e ne verseremo il giusto indispensabile questo ci serve dopo nella padella 1 2 lo mettiamo a fuoco minimo adesso prendiamo la pentola la pentola grande perché facciamo gli spaghetti per fare gli spaghetti ci vuole tanta acqua tanta acqua ecco qua vimpita la pentola adesso vediamo con una mano non ce la faccio io ho già adesso ci aggiungo un pugnetto di sale guardate il sale nel fondo della pentola sugo di pomodoro con carne già pronto deve bollire l'acqua poi ci butto la pasta forse vi farò vedere come impianto comunque fino a qui ve lo potete anche immaginare da voi e questo è stato un altro tutorial di di gastronomia casareggia forse continuare a filmare forse no vediamo intanto deve bollire l'acqua poi ci devo buttare la pasta e tutte queste cose già ve lo fate vedere in altri miei tutorial di gastronomia casareggia mi raccomando non mancate di commentare questo video e andate anche a vedere gli altri miei video di gastronomia casareggia grazie a tutti grazie a tutti